Bello a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo gameplay, sono le 8 e 5 di venerdì 5 maggio, quindi se tutto è andato bene, sono le 8 di stamattina. Niente, perché mi sono alzato così presto per fare un gameplay e rompere i coglioni a chi abita sotto di me? Perché è uscito un nuovo gioco che aspettavo da un po' di tempo, prei? Chi di voi bazzica su Steam sa di cosa parla, di avventura nello spazio, stronzate varie. E voi vi starete chiedendo, per quale motivo porti un titolo simile ad Alien, quando non hai ancora finito Alien? Se non vi va bene avete altre due opportunità, torta di riso o prenderselo in culo? TORTA DI RISO FINITA! Direi di non perdere ulteriormente tempo, con la slot 1 volta, normale. Oddio, paura tantissimo, mi sono cacato. Ma diciamo che non c'è molta differenza, è tra l'uomo e la donna, a parte i capelli, sono tutte e due dei roiti. Grazie. Minchia. Ne continui, non ho letto. Svegli, non ho letto l'elicottero a prenderti, si tratta solo di qualche testa, ricordati di indossare la tutta, la presto. Sì, non ti preoccupa, questa è la duda. Io direi di non perdere tempo, perché qua... Salve. Aspetta che chiudo. Grazie. Lei, posso rubarglielo? Grazie. Oddio. C'è di che, non si preoccupi, faccio tutto. No, la torcia, non capisco. Ah, vedi che c'è lo scatto, però non posso correre con lo scatto alla torcia. Va bene. Andiamo, torcia. Adesso può entrare qua? Voglio la torcia. Salve, salve amici. Salve. Sono dispiato. Ma chi guida, qui? Eh, ho visto il cielo, sì. Eh, va bene. Il cazzo che me ne frega, che mi ha da dire, perché sono su un elicottero. È diventato un vlog, adesso lo metto tutti gli effetti da vlog, perché va bene. Buonasera, salve a lei. Perché si chiamano tutti Talos? Il cazzo di pianeta, il sedicesimo gioco barra film. Ok. Non lo so, cioè, non lo sapevo io. Questa cosa me lo stai dicendo tu per la prima volta. Ti abbiamo qua. Salve. Bellissimo. Infatti benissimo. Infatti che ti avvicina anche meno. Che occhio? Chi è la famiglia? Come me lo stai dicendo? Salve. Questa stanza non mette ansia, no no. Dimmi dove devo... Allora, devo prenderli. Non ho fatto niente, ho calciato dei cubi. Che cazzo di testa è? Ma io non so come ci si nasconda. Qua guarda una scimmia. Io? Ecco, dove cazzo mi nascondevo? Mi scusi. Grazie. Cosa vuol dire? Eh, che sono un po' scarso. C'hai ragione. Vabbè, non ti preoccupare. Sono colpito. Eh, colpisco io tra due minuti, se non la smettiamo. Eh, vabbè. Cosa cazzo... Cosa cazzo... Non ho capito... Ma... Bruttissimo. Aiuto? Sti caffè assassini... Buongiorno Morgan. Oggi è lunedì, 14 marzo 2032. Ancora. Questa cazzo... Ah, tutto è spam. Tutto è spam. Non sono... Immagino che rubino... Sh... Fishing. Fishing. Io direi di rimettermi la tuta a questo punto. Da questo... Dicevamo... Se posso uscire, per favore, grazie. Poi mi spiegate che cosa sta succedendo. Premi. Oh, che fastidio quando finisce la musica di botto. Che fastidio... Ma qua c'era... Una via. Sì. Eh, va bene. Vuoi sapere che cosa sta succedendo? Dovrei uscire dal tuo appartamento. Non sei assicuro. Sì, ho capito cosa vuol dire... Cosa mi rappresenta? Dai, sta bene? Tutto a posto? Adesso la prendo con me un attimo. Andiamo. Andiamo, Gina. Eh, sono tutte porte chiuse. Io dove cazzo vado? Non ho capito. Allora, vediamo se riesco ad uscire dalla finestra. Con la chiave inglese. Dove è la porta? Allora. What the fuck? Oh, cosa mi è passato sulla testa? Ma questo... Ma che c'è? Ok, però non farlo mai più. Rimettete subito la musica. Subito. Madonna, dove siamo? Schizzata. Voglio un po' di musica, vi prego. Mi sta venendo un'ansia della Madonna. Non ho capito. Siamo su questo? Oh, è stato di merda. È via. La sala dei test. Com'è? Lui... Praticamente è il nostro... Ecco... Ho come l'impressione... Che uno di questi pezzi di merda... Pezzo di merda, vai via! Cerchiamo di fare le cose con calma. Ehm... Ah, salve. Com'è bella la natura. Com'è be... Allora? Ma dai! Ma la smettila! Ma è morto adesso! Ma cazzarola! Salve, vieni qui! Pezzo di merda. Cosa? No. Andate via. Per favore. Quindi vuol dire che io dovrei cercare la chiave magnetica, ma non posso... Non ce l'ho. Alla madonna! Stavo parlando! Eh, sì! Va bene! Immagino che questi tunnel, prima o poi, portino a qualcosa di sbagliato. Almeno questi si aprono più velocemente ed è molto più semplice. Ehm... Uuuuh! U 컨 U U U U U U U U Grazie a tutti.